ciao a tutti bentornati sul canale io come sempre sono pasquale questo è il risparmio e bentornati in un nuovo video in cui diciamo cerco di rifare l'inquadratura perché qualcuno mi ha detto che un po alla volta praticamente mi si vede solo la fronte ho cercato un po di fare le modifiche il più possibile nell'ambito delle mie possibilità per fare in modo che non mi si veda solo la fronte anche perché io sono in piedi sulla sedia sono un anno non si vede per cui questo è quello che si vede e sono visto abbassare un po la camera un po il monitor però sicuramente dovrò andare a comprare un monitor un po più piccolo questo è un po troppo grande detto ciò oggi finalmente andiamo a scoprire quale conto deposto scelto e perché perché ricordate avevo fatto un video in cui parlavo appunto che sarei andato a valutare due o tre conti deposto per qualcuno di voi mi ha dato altri consigli poi alla fine ho preso la mia decisione finale che vado a spiegare oggi vado a spiegare anche perché e quale dei conti deposto scelto per il mio fondo di emergenza tutto questo dopo la sigla sono un cantante improvetto e provetto prima di andare a cominciare col video che le proprie volevo ricordare che in qualsiasi momento potete andarmi a trovare anche su instagram io andresco risparmio sul mio blog www.risparmioinvesto.com dove pubblico ogni lunedì un articolo nuovo qui su youtube martedì e venerdì con i nuovi video giovedì con le live e ho cominciato questo giovedì non con le serie di rizzo alle orecchie o buonanotte mercati ma invece questa settimana abbiamo fatto una bellissima chiacchierata assieme a davide a ravera e vi lascio il link qui da qualche parte in descrizione in maniera tale che potete andare a vedere questa bella cacchierata abbiamo fatto quattro chiacchiere un po una chiacchierata molto rilassata senza andare troppo in dettagli di tipo in finanziario bene adesso andiamo subito a cominciare ovviamente se sei nuovo sul canale ti prego di cliccare la campanella delle notifiche ed iscrivete al canale così non ti perdi nessun video successivo e se il video è il tuo aggredimento fallo capire a me questo è un ottimo investimento sia per te ma anche per me lasciando un bel pollice in su così l'algoritmo di youtube capisce che tu mi vuoi bene che passione vera e per cui lui mi ama come te bene andiamo subito a cominciare questo video ma prima volevo un attimino andare a fare vedere un'altra cosa e cioè come molti voi si ricordano io adesso diciamo ho cominciato a collaborare con xtb e questo nuovo questo broker diciamo che fino adesso è stato cfd e a breve andrà a avere anche sottostanti reali perché perché stanno organizzando un investing day del quale vi lascio il link in descrizione non è un link affiliato non è assolutamente gratuito per cui non è che cliccate mi vengono 100 mila euro a me xtb però se li vuoi dare dalle pure invece non investi in day sarà un live streaming di tre ore assolutamente gratuito in cui ci si può iscrivere e partecipare online ci saranno tre speaker ci sarà marco casario mauro calmi e anche leonardo pinna che sono tre persone che su youtube sono anche abbastanza conosciute mercoledì 21 aprile 17 30 per cui insomma ora nostra ora italiana si partecipa esclusivamente poi saranno date anche delle offerte esclusive con scontistiche per accedere ad altri tipologie di di cose all'interno del diciamo del video insomma poi sarà spiegato tutto durante la live mancano 18 giorni e otto ore all'evento c'è un diciamo come si può vedere qui un orologio che va a spiegare quando effettivamente l'evento ci sarà bene questo è tutto perché se vuole scrivere ripeto link in descrizione andiamo a vedere invece cosa ho scelto io per il mio conto deposito e alla fine ho scelto proprio questo quello di fc a bank fc e bank e diciamo che è un po' in combutta con il conto progetto e alla fine ho scelto questo per diversi motivi che vado a spiegare adesso quindi tutto come dicevo all'inizio questo conto per me sarà un conto di emergenza non ci saranno soldi che saranno lì per fruttare anche perché i conti deposito che vuoi che fruttino e non ci saranno appunto delle diciamo i soldi non saranno messi vincolati però ho scelto questo conto perché pur dando un interesse diciamo lordo interessante dell'uno per cento anno per le somme non vincolate nel caso io volesse andare a vincolarle avrei un 1 15 per cento su vincoli di 15 mesi ma la cosa bella la cosa interessante di questo conto sarebbe che io potrei andare a svincolare in qualunque momento le somme che sono andato a versare e non mi sarebbe applica non verrebbe applicata alcuna penale non mi verrebbero applicati nessun nessun costo diciamo particolare se non il fatto che non mi sarebbe più andato a dare un punto 15 per cento di interesse ma mi verrebbe riportato l'interesse a quello del conto non vincolato c'è l'uno per cento lordo anno e questo mi sembra un ottimo affare nel senso potrei andare a vincolare le somme e poi in un certo periodo di tempo se mi rendessi conto che queste donne potrebbero servirmi potrei andare a svincolarle senza pagare penali ma semplicemente andando a spostare i soldi in un conto non vincolato di fc e bank senza perdere niente avendo semplicemente l'uno per cento lordo di interesse che quello che avrei tenendo i soldi non vincolati e questa mi sembra una cosa molto interessante la cosa che c'era sul conto progetto che anche sui conti non vincolati avrei dovuto attendere almeno 30 giorni per poi vedermi accreditati i soldi sul mio conto corrente per cui di per sé c'era un vincolo minimo di un mese che era un po diciamo offuscato fra le varie clausole contrattuali e siccome già in partenza non mi sembrava molto molto corretto fare una cosa del genere senza specificare in maniera visivamente molto reperibile ecco che fosse vista subito ho preferito andare su fc bank dove trovavo appunto tutte le dinamiche tutti i contratti subito in vista da poter andare a valutare in questo conto poi sono andato a leggermi anche tutte quante quelle che sono le informative qui ne ho aperti due ho aperte quello del conto libero e quello del conto vincolato che si può aprire e diciamo che un po per andare a sintetizzare tutti i costi sono a zero per cui non c'è costi né per l'imposta di bollo a parte quella diciamo statale dello 0,2 per cento non c'è altri costi non c'è un costo per i servizi internet non c'è un costo per il deposito non c'è un costo per il prevo non c'è un costo per la sottoscrizione del vincolo e per lo svincolo delle somme per cui diciamo si può avere dei costi zero per mantenere questo conto inoltre si può usare anche tutto tramite l'app non solo tramite web e questo è molto utile anche per fare vincoli svincoli bonifici e per rifarsi dei bonifici a proprio conto corrente inoltre nei conti riguardi il conto se ne può avere uno singolo e poi se si vuole aprire un conto contestato ad esempio con la moglie si mettono soldi da parte che non so per le vacanze si può avere un secondo conto che sia però contestato per cui questa è una cosa che valuterò in seguito nel caso volessimo aprire un conto io e mia moglie insieme e qui poi viene spiegato anche che le somme hanno questo è il conto vincolato 1,15% con un tasso credito nominale anno lordo applicato in caso di estinzione anticipata del vincolo in pratica però quello che viene detto è che il diritto di svincolo il cliente sottoponendo al vincolo le somme si impegna a non effettuare nessuna movimentazione fino alla scadenza concordata in ogni caso però il cliente può svincolare le somme vincolate in qualsiasi momento senza penalità e ospese di chiusura e senza doverne specificare il motivo quello che dicevo prima sia tramite il svizio di internet banking che in maniera telefonica per cui anche parlando con un operatore si potrebbe ad esempio discutere lo svincolo se si volessero avere delle informazioni in più per cui le fessi di bank andare a creditare sul conto deposito libero entrano in oltre 15 giorni anche le somme vincolate e questo è una cosa molto interessante se uno ha bisogno anche di soldi vincolati in maniera urgente 15 giorni sono un termine abbastanza colto e comunque dice comunque non oltre per cui potrebbero essere anche svincolati nell'arco di una settimana o 10 giorni e questa è una cosa appunto che è molto interessante per un vincolo dove molte volte le somme vincolate possono richiedere diversi giorni più di un mese per essere riaccreditati sul proprio conto e questa è una parte che mi ha interessato molto il cliente potrà effettuare le operazioni di vincolo e svincolo tramite i servizi di home banking e banca telefonica nel rispetto di termini d'orario però dal punto di vista diciamo pratico facendo tramite home banking quindi tramite web o tramite app e 24 ore su 24 7 giorni su 7 ovviamente poi le operazioni saranno processate dal sistema il primo giorno lavorativo successivo però uno potrebbe anche decidere domenica in urgenza che ha da fare qualcosa fa lo svincolo domenica e poi da lunedì l'operazione viene messa diciamo in movimento e successivamente si ritrova nell'arco di 15 giorni massimo le somme svincolate una cosa molto interessante la banca però ha facoltà di ricevere il contratto con previsto di due mesi nel caso ovviamente una persona facesse questo lavoretto magari in maniera un po' subdola quali sono i termini e le condizioni per le somme vincolate? 1000 euro è il minimo vincolabile con un massimo di 400-1000 euro quando mai ce l'avrò? non a breve comunque e la prioricità degli stati conto è annuale e comunque è alla scadenza del contratto e come si può vedere qui l'operatività per quanto riguarda tramite web è 24 ore su 24 7 giorni su 7 mentre in maniera telefonica dalle 8 alle 22 da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 sabato dalle 8 alle 18 i festivi questo è il diciamo un po' quello che è stato il mio orientamento per quanto riguarda il conto libero invece ovviamente la liquidazione delle competenze è di tipo ogni 12 mesi con un tasso creditore dell'1% e la ritenuta fiscale sugli interessi maturati ovviamente sia nel conto vincolato che in quello non vincolato per cui questo libro è quello statale che al momento è sul capital gain del 26% più abbiamo sempre lo 0,2% di bollo sulle somme depositate questo è sempre da tenere diciamo in considerazione quando si fanno queste tipologie di deposito o di investimento bisogna sempre andare a guardare le clausole perché ci potrebbero essere appunto delle cose che non si notano nelle pubblicità perché chiunque ti mette lì lo screensaver ti mette tutte le cose belle ma poi sotto ti dice con gli esterischi vai a leggere e mi raccomando bisogna sempre leggere quello che sono le clausole di ogni contratto soprattutto quando si parla dei nostri soldi io l'ho fatto e chiunque voglia andare a aprire un conto deposito così come un qualsiasi altro strumento finanziario dovrebbe andare a leggere bene i contratti soprattutto le clausole in piccolo perché sicuramente qualcosa sotto sotto ce l'hanno bene qui sono andato a spiegare un attimino in questo video perché ho fatto determinate scelte perché ho deciso di utilizzare questo conto deposito per cui questi sono stati dei parametri che mi hanno spinto a sottoscrivere FCI Bank però ognuno potrebbe avere i propri obiettivi e le proprie necessità e questo conto potrebbe anche non andare bene perché magari ha delle somme più ampie ha necessità di avere dei capital gain più ampi anche sul deposito per cui magari potrebbe necessitare di vincoli un po' più lunghi per cui se ci sono altre aziende, altri conti di deposito che volete che io analizzi per favore lasciatemi un commento qui sotto e magari li andiamo a vedere insieme ovviamente questo non sono consigli finanziari semplicemente ho portato alla tua conoscenza, alla vostra conoscenza quello che è stata la mia decisione in base alle mie necessità poi ognuno ha le proprie necessità e deve fare i propri studi e come ho detto leggete sempre i contratti, leggete sempre le clausole perché hanno sempre qualcosa sotto ricordo ovviamente che mi trovate ogni lunedì sul mio blog www.risparmioinvesto.com con un articolo nuovo su Instagram, io andesco a risparmio, qui su YouTube ogni martedì e ogni venerdì con un video nuovo, ogni giovedì con una live per cui seguitemi, se sei nuovo sul canale iscriviti adesso e clicca la campanella delle notifiche se il video è stato di un gradimento un bel pollice in su per farmi capire a me ma soprattutto a YouTube che mi vuoi bene, tanto bene anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao Ciao